Perchè ha scelto di diventare socio di Amici di Lecco? Per dare una spinta in un momento che la popolazione deve essere più attiva. Cosa ci si aspetta da questa associazione? Che cosa può fare per Lecco? Per Lecco può fare molto, specialmente nell'ambito del turismo, perché con queste manifestazioni si è visto un entusiasmo da parte di tutti. Qual è il suo luogo del cuore di Lecco? Qual è il suo angolo preferito? Il mio angolo di Lecco preferito è la piazza che è stata illuminata, Piazza 20 Settembre. Lecco è bella perché? Lecco è bella perché è l'unico posto in cui il lago e i monti si sposano.